Oggi prepariamo una pasta velocissima e molto gustosa, la pasta con salsiccia e broccoli. Servono pochissimi ingredienti, un broccolo, della salsiccia, peperoncino, aglio, aglio extravergine d'oliva e sale. Prendiamo le nostre cime di broccolo e le laviamo bene. E cuociamo a vapore una decina di minuti. I nostri broccoli sono pronti, possiamo iniziare a preparare il sughetto. Olio, aglio senza anima e un po' di peperoncino. Togliamo il budello e la salsiccia e la facciamo a pezzettini. E dopo qualche minuto uniamo anche la salsiccia. Scusiamo, possiamo aggiungere i broccoli. Lasciamo insaporire, poi togliamo l'aglio e aggiustiamo il sale. La uniamo al nostro condimento. Uniamo anche l'acqua di cottura. Ancora un filo d'olio e via pronti per l'assaggio. Ancora un filo d'olio e via pronti per l'assaggio. Ancora un filo d'olio e via pronti per l'assaggio.